Ad un anno dalla chiusura della comunità di Emmaus di Laterina la struttura riapre e lo fa con una grande vendita straordinaria che servirà a pagare, a finanziare i lavori di ristrutturazione che sono in corso e che dureranno ancora per molti mesi. La grande vendita ci sarà in questo prossimo fine settimana e sarà dedicata ad una delle figure più importanti per la comunità di Emmaus di Laterina che è lo scomparso Franco Bettoli. La comunità di Emmaus è presente nel Comune di Laterina dal 72 anno della sua apertura, fa parte del nostro tessuto, è una cosa nostra tra virgolette, ce la sentiamo con le nostre e quando l'anno scorso è stata decretata la chiusura della comunità e inizialmente anche del mercatino siamo stati un po' tutti colti di sorpresa. Per questo è stato anche bello vedere la rete di solidarietà che si è mossa intorno alla chiusura e questo ha fatto sì grazie all'unione della forza di tutti di portare oggi alla riapertura della comunità. Faremo questa vendita straordinaria proprio per finanziare questi lavori di ristrutturazione. La gente ci può aiutare sia venendo a questa vendita straordinaria sia continuando a chiamarci per prendere mobili, oggetti, tutto quello di cui la gente non ha più bisogno ma che può essere rivalorizzato tramite il nostro mercatino dell'usato, quindi acquistare anche al mercatino dell'usato è un sostegno alle iniziative che facciamo che non sono solo accoglienza ma anche solidarietà anche a livello nazionale e internazionale. Possiamo dire che la comunità è ripartita con 5 persone delle comunità italiane ed ora al termine dei lavori di ristrutturazione che dovranno finire a fine anno, inizio anno prossimo, la comunità ritornerà a essere a regime e quindi potrà accogliere altre persone e arrivare fino a 15-20 persone in accoglienza.